Io farò un'introduzione diciamo sul problema del brigantaggio, ma con un atterraggio nell'attualità per dimostrare come ancora oggi i briganti ci vorrebbero. E non solo i briganti della comunicazione, ma briganti proprio di quelli che fanno una lotta quotidiana e attiva, visto che il mezzogiorno giorno per giorno è danneggiato dalle politiche che si fanno in questo Paese. Noi non ce ne rendiamo conto perché sui giornali le leggiamo un giorno dopo l'altro, ma un giornale di un giorno e il giorno dopo già è dimenticato, ma se le mettiamo insieme ci accorgiamo che non solo fanno parte di politiche quotidiane, ma fanno parte proprio di una linea di azione contro il mezzogiorno. Del brigantaggio sapete tutto, sapete come è stato demestificato, dalla storia ufficiale, come si è voluto farlo passare come un fenomeno di delinquenza comune che è sempre esistita nel Regno delle Sicilie, eccetera, e come invece fu una cosa del tutto diversa. Al massimo quei briganti dei quali ha parlato la storia cosiddetta ufficiale dei briganti con un valore sociale, nel senso che si battevano per le condizioni della loro gente e questo tanto più dopo l'unità d'Italia, quando sapete che fu fatta completamente ai danni del mezzogiorno. C'è un libro bellissimo che è uscito, ed è di un brigante nostro amico napoletano di Angelo Forgione, Made in Naples, che è uscito in questi giorni, uscito da qualche mese, il quale racconta che cosa è stata Napoli dal Settecento in poi, ma anche prima, e che cosa continua ad essere adesso, e cioè ha delle caratteristiche tali per cui può essere considerata ancora oggi la vera autentica capitale di Europa. Cose che però dimentichiamo di fronte alla monnezza, di fronte alla buzza, di fronte a tutte queste cose. Vi dico l'ultimo motivo per cui ci vorrebbero i briganti, o pomì o così, che è la pubblicità fatta da questa azienda di pomodori parmigiana, la quale per magnificare i suoi prodotti ha detto vi garantiamo che i pomodori che stanno nelle nostre confezioni provengono tutte dalla pianura padana e da nessun altro posto d'Italia, la pianura padana che è una garanzia di qualità, di difesa dall'inquinamento, eccetera. È la stessa pianura padana dalla quale provenivano in gran parte, se non provengono ancora purtroppo, tutti i rifiuti pericolosi, inquinanti, venenosi, eccetera, che stanno provocando il dramma dalla terra dei fuochi. È quella che è stata rivalata dal pentito di Camorra, Schiavone, contro la quale si è creata una rete di associazioni, di ambientalisti, di gruppi, eccetera, dei quali parlo appunto fino in aprile nel suo ultimo libro, il Sud Puzza, e che va ascritta solamente alla protervia, alla mancanza di rispetto non solo della Camorra, ma anche di questi industriali della pianura padana che è la più inquinata d'Italia. Quindi il Opo Me, o così, ci spacciano pomodori che provengono dalla zona più inquinata d'Italia. Dobbiamo anche ringraziare in una certa misura Michele Santoro per un servizio che ha fatto televisivo questa estate, dove faceva vedere la terra dei fuochi, terra dei fuochi sapete che si chiama così, perché vengono fuori fuochi e fumi, effetto di reazioni chimiche che gli stessi chimici sono incapaci di controllare. Tanto è il veleno che sta lì sotto e che secondo Santoro sarebbero contigui ai campi dove si coltivano i pomodori, dove si fa la bufala campana, eccetera, mentre sono almeno un centinaio di chilometri di distanza. Questo tanto per farci capire. Ma poi se vogliamo andare a fare un campionario delle cose che danneggiano il Sud e che avrebbero bisogno di un brigantaggio attivo e costante e militante, vogliamo parlare per esempio di questa questione dell'università, su cui finalmente si stanno muovendo non solamente le università pugliesi che sono quelle danneggiate, ma visto ci sono delle firme di qualche politico, spero che non siano solamente per mettersi il distintivo al petto, perché i politici si dovrebbero muovere prima che si muovano i colori i quali sono danneggiati, perché vivono nella fonte dei provvedimenti che sono di danno per il mezzogiorno. Allora, le università pugliesi, quella di Bari e quella di Foggia in particolare, non possono più assumere e sostituire i professori che sono andati in quescenza, sono andati in pensione, perché hanno fatto una classificazione, una classifica, diciamo, della virtuosità di queste università, in base alle quali le università di Milano, per esempio, o quelle in genere del Nord, possono assumere anche tutti coloro, per sostituire tutti coloro i quali se ne sono andati, quelle del Sult invece non possono. Quali sono i meccanismi attraverso i quali hanno fatto questa classifica? Altro che briganti ci vorrebbero. Uno dei primi criteri è quello di quanto incassano le università con le tasse di iscrizione dei ragazzi. È evidente che le università maggiori, quelle che hanno più studenti, incassano di più, quella di Bari ha 60.000 studenti, però a Bari non si possono mettere tasse di ingresso nell'università pari a quelle che mettono a Milano, quelle che mettono nel Nord-Est, eccetera. Quindi quello che è in partenza, un vantaggio che le nostre università danno i loro studenti è uno svantaggio che hanno dal fatto di stare in una zona più povera, diventa un qualche cosa che li fa accusare e li fa danneggiare una seconda volta per il fatto che non possono fare assunzioni. Un altro dei criteri con i quali si danneggiano le università pugliesi e quelle meridionali in generale, uno dei parametri è quanto tempo ci mettono i ragazzi dopo la laurea per trovare un posto di lavoro. È chiaro che qui non è semplice un mercato di lavoro, abbiamo la diaspora dei nostri ragazzi, la fuga dei cervelli, eccetera. Questo tempo è più ampio rispetto a quello del Nord. Quindi sono doppiamente danneggiati i nostri studenti, non solo di stare in un mercato di lavoro che non c'è per le note condizioni determinate dalla politica nazionale, ma anche perché venendo da queste università le loro università poi vengono danneggiate una seconda volta. Un terzo criterio, sono privilegiate le università che hanno un maggiore apporto dei privati, sapete che le università adesso hanno una sorta di autonomia per cui i privati possono contribuire, ma mi dite voi dove l'apporto dei privati è maggiore o minore tra Nord e Sud d'Italia, tutta l'economia più forte sta al Nord d'Italia. Al Nord d'Italia c'è un'altra di quelle cose che danneggiano il mezzogiorno e veramente ci vorrebbero i briganti, segniamocene queste cose perché i briganti veri le conoscono. Al Nord ci sono le fondazioni bancarie, su 89 fondazioni bancarie che ci sono in Italia 81 sono al Nord. Sapete cosa sono le fondazioni bancarie? Quella invenzione, quel mostro come è stato definito dallo stesso Giuliano Amato che lo ha inventato, nel quale vanno a finire tutti gli utili, il patrimonio eccetera delle banche. Ora, le fondazioni bancarie al Nord non vuol dire che sono di banche del Nord, vanno in quelle fondazioni bancarie che stanno al Nord anche gli utili fatti dalle banche settentrionali al Sud, questi utili finiscono in quelle fondazioni bancarie del Nord che per statuto devono devolvere tutti questi loro utili, il patrimonio eccetera alla cura del territorio di dove sono. Quindi quando noi possiamo ben dire che attraverso le fondazioni bancarie il Sud assiste il Nord, non il contrario che si dice che normalmente il Nord assiste il Sud. Un altro modo in cui il Sud assiste il Nord è con le pensioni di anzianità, è stato a lungo con le pensioni di anzianità che adesso sono state abolite per fortuna o sfortuna a secondo di come la si intende. Un altro modo con cui il Sud assiste il Nord è con le casse integrazioni che è chiaro che c'è sempre il sistema industriale là, che vengono pagate con le tasse di tutti quanti, anche con le tasse dei meridionali. Un altro modo con cui il Sud assiste il Nord è con gli interessi sui titoli del debito pubblico, il debito pubblico lo sapete, il 50% in mano agli stranieri, il 50% agli italiani, in gran parte in mano a chi ha più possibilità di fare investimenti in BOT, CCT eccetera, cioè al Nord ancora una volta. Però gli interessi sontuosi soprattutto quando lo spread è stato alto, che si pagano su questo debito pubblico, vengono pagate con la fiscalità generale, cioè anche con le tasse dei meridionali. L'ultima cosa, l'ultima ma tanto per dire, che è stata scoperta dal nostro amico estrodale Marco Esposito, coordinatore del movimento Unione Mediterranea e giornalista al mattino, improvvisamente dalla sera alla mattina i poveri del mezzogiorno sono diminuiti, o sono morti di povertà tutti quanti improvvisamente oppure qualche scherzetto ci deve essere stato. L'improvvisamente è contemporaneo all'assegno di solidarietà che viene dato a quelli che stanno, che hanno un reddito al di sotto di un certo livello. Bene, 1.200.000 poveri del sud sono scomparsi perché l'Istat li ha fatti scomparire. L'Istat che è un altro dei poteri forti al servizio dei poteri forti di questo paese, per cui 1.200.000 poveri meridionali che dovevano prendere questa assegno di solidarietà non hanno preso perché è stato dato a quelli del nord. Vogliamo parlare del fatto che sugli intercity, da centro Italia in poi, potete morire di fame e di sete perché voi meridionali, brutti, sporchi e cattivi, noi va, così ci sentiamo più solidari, non abbiamo diritto ad avere il servizio ristorazione a porto. Mi dovete spiegare, anzi me lo deve spiegare il famigerato amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, Moretti, perché noi non dobbiamo avere l'alta velocità ferroviaria. Lo stesso Moretti, sciagurato e famigerato, è quello che l'altro giorno, una dichiarazione che ho fatto sul giornale, ha detto che se ci fosse l'alta velocità tra Bari e Napoli, da Bari a Napoli si potrebbe andare in 1.40. Non ci illudiamo, non crediate, non crediamo nessuno altro che briganti, ci dobbiamo veramente arrabbiare che ci stiano facendo l'alta velocità, ci stanno facendo l'alta capacità ferroviaria, che significa il doppio binario, nel senso che siccome i primi treni, adesso i treni passano sullo stesso binario, uno deve aspettare l'altro, ci fanno il doppio binario, ma di tutto questo Ambaradan, finora hanno fatto 18 km, che corrispondono a quelli che stavano già durante il regno delle due Sicilie e l'impresa che lo sta facendo, si è anche fermata, che non ha già più soldi. Siete tutti dei delinquenti, non ve lo togliete dalla testa, perché secondo l'assicurazione auto, siete dei farabutti in partenza, nel senso che lo dovete pagare di più, perché o lo fate o non lo fate in incidente, siccome qui ci sarebbe un numero di incidenti falsi più alto che rispetto al resto del Paese, si paga già in partenza di più, ma io non l'ho mai fatto. Non c'entra niente. La Costituzione parla di pari diritto di cittadinanza, per l'assicurazione auto questo pari diritto di cittadinanza non c'entra. La Costituzione dice che dovunque tu nasca hai gli stessi diritti, le stesse opportunità, le stesse facoltà che dovresti avere in qualsiasi altra zona nasci. I bambini del mezzogiorno, io dico sempre, piangono di più, perché hanno capito dove sono nati. Certo, si può nascere anche nel Burundi, si può nascere anche in un altro posto, adesso sto facendo un paradosso, ma questa è la situazione che ancora persiste dalle nostre parti. E allora, se tutto questo non è sufficiente perché rinasca un sergente romano, se tutto questo non è sufficiente perché tutti quanti noi diventiamo personalmente dei briganti, briganti che sono informati dei fatti, che conoscono le cose, essendo informati dei fatti hanno acquisito anche una coscienza di quello che è avvenuto in questa parte del Paese e di quello che continua a avvenire ancora oggi nel silenzio generale della politica. Renzi è venuto qua e in un'ora di discorso non ha mai citato il Sud, neanche per dire vedi con questa bella città del Sud, ma abbiamo capito di che cosa stiamo parlando.